era una persona molto speciale innanzitutto diciamo questa sua partenza con una vita molto poco protetta si è inventato veramente tutto da solo no a parte che c'era la guerra subito dopo guerra non aveva una famiglia che poteva dare degli stimoli culturali e neanche una professione una protezione economica e lui pian piano con questo suo intuito questa sua creatività e sensibilità estetica io la chiamerei proprio così è riuscito a costruirsi un percorso che l'ha messo in contatto con tante persone interessanti molti artisti ma con gli artisti non c'era un rapporto come dire committenza fornitore no come succede nella maggior parte dei casi e lui aveva un rapporto costruito su una diciamo su una sensibilità che era molto comune la sua con quella dell'artista in qualche modo spiega quello che persuavi era la creatività e l'arte e cioè era qualcosa che faceva parte della vita stessa dell'artista non era mai qualcosa di concettuale estraneo come dire diverso da quello che era la vita dell'artista cioè lui sentiva questa intimità tra lo spazio dove viveva l'artista la sua casa e le opere che l'artista creava e anche questo secondo me è molto affascinante perché per la maggior parte dei critici che analizzano un lavoro creativo si fermano magari su documenti e su storie più razionali ma non danno importanza a quello che è invece l'essere nella vita nel momento della creatività cioè la creatività che cos'è rispetto alla vita e lui sentiva molto il bisogno di arrivare alla radice di questa domanda no ogni artista aveva un suo percorso ogni artista aveva un suo linguaggio e lui era affascinato da questa cosa faceva parte del suo carattere questa capacità di rimescolare la grande opera d'arte insieme a degli oggetti presi sul banchetto del mercato no il suo rapporto con la realtà era forse un primo gradino e dopo di che entrava in campo un discorso fantastico e anche un po surreale era una capacità speciale secondo me di di soavi nole il fatto delle fotografie credo sia molto importante perché a un certo momento non gli bastava più la scrittura per venire in contatto con un certo tipo di realtà e quindi ha cominciato a fotografare e devo dire che beh a parte l'esempio più importante è il mio giacometti naturalmente sono foto molto interessante naturalmente da un punto di vista della documentazione ma non è solo documentazione è un discorso estetico creativo di grande valore i più belli sono le le documentazioni con artisti e che erano anche amici satelen era anche molto amico di soli non non possiamo dire così di de chirico infatti sono foto un pochino più istituzionali non non c'è un una vena emotiva come nelle altre è un fatto di voler provare se stesso a utilizzare un linguaggio che non conosceva era un rischio perché non è facile eppure è riuscito a fare dei lavori con una chiave di lettura molto speciale sì credo che sia questo incontro con adriano libetti è stata una cosa veramente rivoluzionaria no perché racconta bene l'atmosfera di quegli anni in olivetti dice noi io pensavo di essere su una porta aerei e tutte le persone che collaboravano con adriano non erano persone normali erano persone speciali non erano paragonabili a nessun dirigente o nessun operaio di altre fabbriche o di altre realtà industriali cioè era un'isola completamente autonoma da un punto di vista dei modelli esistenziali rispetto a quello che poteva essere il territorio per esempio di verea cioè fuori dalla fabbrica era tutto diverso e niente giorgio è stato travolto da questa realtà che appunto non conosceva e quindi direi che è stata un'esperienza straordinaria poi c'era il rapporto con zorzi è lì è una cosa strana perché zorzi era una persona un cattedratico diciamo no una persona con una grande cultura accademica partito d'azione alle spalle esperienza con antonicelli antonicelli aveva è stato il primo a stampare il libro di primo levi nella sua piccola cadetrice però ci sono degli episodi che soavi racconta non racconta in un modo estremamente cioè accenna al fatto per esempio che il suo nome non compariva mai cioè zorzi faceva tutte le presentazioni naturalmente delle grandi mostre organizzate da olivetti però il nome suavi non c'era allora suavi dice una cosa buffa dice io ero il mio lavoro era indispensabile ma non dovevo esistere la prima volta che il nome di suavi è comparso come art director è stato per merito di di glaser perché quando lo studio di glaser di milton glaser ha curato delle mostre olivetti in italia nel catalogo curato dallo studio pushpin glaser cita come art director di tutta di tutta la storia all'esposizione giorgio soavi dice la prima volta perché normalmente io venivo totalmente ignorato e anche un altro episodio folone quando ha fatto ha presentato a giorgio quel famoso calendario con i dodici che se ogni mese c'era un cassetto diverso no disegnato e poi realizzato come calendario da muro e e zorzi ha detto ha fatto molti complimenti a folone ha detto è un'opera molto affascinante e folone ha detto ma guardi che veramente l'idea è stata di giorgio soavi addirittura lui mi ha spiegato come dovevo disegnato e qui però non ho detto nulla cioè erano due culture molto diverse due approcci molto diversi quindi avevano proprio due percorsi nel nel loro lavoro pur stimandosi molto a vicenda naturalmente però troppo diversi per poter avere una collaborazione io penso l'autonomia di soavi è stata utile perché lui attraverso questa sua autonomia che poteva inventare dei progetti creativi che altri e non non erano capaci di fare ma perché avevano proprio una una formazione diversa un approccio diverso quando lui a un certo momento va a parlare con De Benedetti e parlando appunto della produzione mi pare dell'Olivetti soavi fa una lamentela per qualcosa per un rapporto e De Benedetti gli dice scusa ma cosa stai dicendo tu hai un padrone perché io non mi sono mai accorto e tu in qualche modo dipendessi dalla volontà di qualcun altro quindi gli lasciavano diciamo che era un valore era un valore per l'Olivetti non solo per l'Olivetti ma il fatto di avere una persona che potesse inventare delle cose non convenzionali i due progetti inventati da soavi per l'Olivetti le agende da tavolo e i libri illustrati dagli artisti in grande formato siano veramente due grandi valori per quanto riguarda dall'identità che in qualche modo hanno rappresentato l'identità dell'Olivetti in un modo veramente molto interessante e esteticamente speciale il progetto per l'agenda è stato commissionato a Enzo Mari che però non aveva previsto all'interno le tavole anzi non le voleva non le voleva le tavole degli artisti mentre soavi poi ha realizzato le agende mettendo una tavola d'artista ogni mese e infatti diciamo che l'oggetto bellissimo il progetto grafico estremamente rigoroso di Enzo Mari con le tavole stampate oltretutto a sei colori cioè erano delle raffinatezze grafiche che soavi si permetteva diventano veramente degli oggetti estremamente affascinanti assolutamente